Ragazzi, l'intelligenza artificiale, il garante della privacy, blocca chat GPT, OpenAI, sospende il servizio in Italia. L'autorità ha aperto un'istruttoria per la raccolta considerata illecita di dati personali degli utenti, il sito irraggiogibile del nostro paese. Allora, dico io, tutto giusto quello che è stato detto, cioè la privacy è importantissima, però questa cosa io la trovo una barzelletta. Perché la trovo una barzelletta? Perché ormai navighiamo su mille siti, andiamo a fare accetta sui cookie perché ci vengono proposti mille modi differenti, forvianti, difficili, anche andare a scartare proprio l'opzione che tante volte entriamo sul sito e dobbiamo fare 50.000 flag per poter accedere al sito. E quindi dopo 5 minuti ci arriva la telefonata del call center sul cellulare e i nostri dati vengono comunque raccolti ovunque ormai. Sono veramente buttati alla merced di tutto quando ne arriviamo in internet ed è molto difficile limitare questa cosa. Quindi giustissimo l'intervento del garante della privacy, dal mio punto di vista sbagliatissimo andare a bloccare l'accesso all'intelligenza artificiale alle persone. Perché siamo l'unico paese al mondo che ha bloccato questa cosa e non abbiamo la possibilità di utilizzare un tool che sta cambiando il modo di lavorare. Quindi veramente sta cambiando il modo di lavorare, ci aiuta anche a fare delle cose, quindi dobbiamo un po' imparare ad utilizzarlo e bloccare la tecnologia dal mio punto di vista è sbagliato. Nel video di oggi andremo a vedere, non dico come bypassare il sistema perché comunque il sistema sta lavorando nel modo corretto, è che non sta vedendo anche tutto il contorno che c'è intorno, cioè la privacy comunque è libera su internet. Quindi vedremo dei sistemi per utilizzare ChatGPT ugualmente anche stando in Italia. Allora, passiamo al sito di ChatGPT, quindi se oggi entrerete comparirà questo messaggio. Il garante della privacy dice che ha bloccato tutto quanto, quindi se provate ad accedere non funzionerà più. Il primo sistema per utilizzare l'intelligenza artificiale è andare ad esempio su questo sito, perplexity.ai. Questo sito qua è praticamente un'altra intelligenza artificiale che è molto simile a ChatGPT, non è potente come ChatGPT, però la cosa bella è che può anche andare in internet. Quindi se andate a fare una domanda, lui ricercherà su internet, le informazioni vi darà la risposta aggiornata e allineata con i dati disponibili in internet oggi. Quindi sotto un certo punto di vista è anche più preciso di ChatGPT. Non potete dialogare come fate con ChatGPT, quindi iniziare una conversazione e dialogare simulando la risposta umana. Però funziona veramente bene, provatelo perché è veramente top. Io utilizzo un po' ChatGPT e utilizzo molto anche perplexity, proprio perché si connetta ad internet e posso avere informazioni più aggiornate. Un altro sistema per andare ad utilizzare l'intelligenza artificiale, in questo caso proprio ChatGPT, versione 3.5 ma anche la 4, basta andare in questo sito. Questo sito è nav.dev.compare. Quando voi entrate qui avete il box di domanda che avete qua su e potete anche dialogarci. E qui quando fate submit vi dà la risposta con ChatGPT3 turbo, quindi anche veloce a rispondere. E vi dà anche la risposta con praticamente la 4, quindi vedete più tipi di risposte. La pecca di questo sito è che era gratuito fino a fine marzo. Adesso da inizio aprile è diventato a pagamento, difatti vedete che qua su c'è il credito. Dovete andare a prendere un credito e poi in base al credito che avete e alle domande che fate scalerà appunto il credito. Però funziona veramente bene e in questo caso potrete proprio continuare ad utilizzare ChatGPT 3.5 ma anche la 4. Quindi al posto di andare a fare l'abbonamento con ChatGPT per così dire, la versione 4 che costa 20 dollari al mese, potete utilizzare questo escamotage che va a fare delle chiamate API verso ChatGPT e dà delle risposte. Ovviamente se le utilizzate tantissimo magari andate a spendere più di 20 dollari al mese, quindi va capito se vi conviene o non vi conviene. Un altro sistema per utilizzare l'intelligenza artificiale è aspettare un attimino che arrivi Bard di Google, perché anche questo sarà l'intelligenza artificiale competitor ChatGPT, probabilmente Google si organizzerà in modo più preciso e strutturato e avrà un accesso che poi non verrà bloccato. Il sistema invece per tornare ad utilizzare il vecchio sito è utilizzare una VPN. Che cos'è una VPN? Allora io qui ho preso un sito che vi fornisce più tipi di VPN, più tipi di servizi che potete andare ad acquistare. La VPN non è altro che un servizio che vi permette di connettervi a un host sicuro che poi vi dà l'accesso ad internet. Questa è la frase un po' sintetizzata. Oltre a questo vi dà vari servizi. Io ad esempio nello specifico, vedete questi sono i 5 top, sono tutti buoni, potete scegliere quello che più preferite. Io nello specifico ho scelto CyberGhost, un po' per la qualità prezzo che dà e un po' anche perché mi permette di navigare al massimo. Difatti ho fatto uno speed test prima di andare ad utilizzare CyberGhost e andavo più o meno a 80 MB al secondo. Ho connesso la VPN che addirittura si connette a Milano nello specifico come mi sono connesso in Italia e andavo a 130 MB al secondo. Quindi bypassa i blocchi degli operatori quando vanno a scalarvi la rete. Perché quando acquistate un servizio internet di solito ve lo fanno sempre andare veloce. Dopo qualche mese casualità cala la banda e le persone non se ne accorgono di questa cosa. La VPN vi aiuta anche a migliorare questo servizio, quindi vi dà la connessione effettiva che dovreste utilizzare. Allora andando nello specifico CyberGhost, se andate poi nel sito, come funziona? Vi dà praticamente, andando ad acquistare, io ho preso il pacchetto a 27 mesi, quindi 24 più 3 gratuiti, che è 2,11€. In più ho acquistato anche l'antivirus, l'antivirus che mi costa praticamente 1€ al mese. Secondo me è un prezzo veramente conveniente per quello che dà. Quindi con circa 98-99€ sono a posto per 27 mesi. Andando qui trovate ovviamente le offerte e i vari servizi. Quando andate a fare acquista al piano vi consiglio di aggiungere appunto l'antivirus che è qua sotto. Quando avete fatto tutto quanto, avete pagato, vi fa scaricare il software. E che cosa succede con questo software? Andiamo a vederlo. Qui vado ad ingrandirlo così vediamo tutto. Vedete che avete un sacco di cose. Ho la sicurezza sulla privacy, quindi vengo garantito anche sull'uscita dei miei dati. Quindi mi protegge e non fa uscire i dati per la raccolta di informazioni. Quindi teoricamente è la fine dei contatti commerciali. Perché quando andrò dentro nei siti questa cosa andrà a proteggere i miei dati. Security update e antivirus che appunto, come vi dicevo, è stato acquistato. Qua ci sono diverse opzioni poi per andare a lavorare. Potete scegliere come vi protegge il computer. Comunque è un software veramente fatto molto bene. La cosa che più ci interessa è appunto la VPN. Quindi voglio andare a connettermi a VPN perché voglio tornare a utilizzare CagPT. La VPN, come vi dicevo, vi permette di connettervi a un host sicuro. Che può essere in Italia ma può essere anche all'estero. Quindi se io mi connetto a un host italiano, ovviamente il sito di CagPT non funzionerà. Ma se vado su un host estero, CagPT tornerà a funzionare. Facciamo una prova. Andiamo sul nostro CyberGhost e andiamo a fare connetti. Adesso lui sta andando a connettersi. Lo chiudiamo così vediamo un attimino meglio come fa. Lo apriamo in piccolino. Lui adesso è andato a connettersi. Quindi VPN conness e sono connesso in Italia. Io adesso vado a connettermi ad esempio in Germania che è l'host, uno degli host più vicini che abbiamo. Quindi lui adesso va ad effettuare la connessione sull'host della Germania. Appena sarà connesso andremo a tentare l'accesso a ChatGPT. Eccoci qua, siamo collegati. Quindi oltre ad avere la connessione protetta, io adesso navigo in modalità protetta, sono collegato a un host tedesco. Quindi siamo qui, andiamo a fare un F5. Come vedete il sito è tornato a funzionare. Quindi adesso vado a fare il login. Torno su Google. Entro col mio account. E eccoci qua, sto utilizzando ChatGPT anche se in Italia è stato bloccato. Quindi questo è un sistema per tornare ad accedere a ChatGPT. Ghost, CyberGhost, vi dà praticamente potrete accedere ad esempio al piano come ho fatto io di 27 mesi e per 30 giorni potete approvarla in modalità gratuita. Quindi se poi volete recedere il contratto vi restituiscono tutti i soldi. Magari tra 30 giorni torna di nuovo disponibile ChatGPT. Questo non lo so. Però io comunque vi consiglio di acquistare un servizio di VPN perché oggigiorno sta diventando sempre più importante avere un servizio di questo tipo che vi garantisca il funzionamento sicuro, l'accesso sicuro ai dati su internet e una protezione decisamente più alta del classico antivirus che avete. Ok, direi che anche con questo video è tutto, spero di essere stato d'aiuto a molti di voi. Se così è lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se siete ancora iscritti al canale. Se invece vorrete accedere a tutti i servizi che offro magari pensate a stipulare un abbonamento o quel tasto abbonati che c'è qua sotto, compare un video che vi spiega tutto nei minimi dettagli. Se invece vorrete supportarmi in altra maniera, in descrizione trovate tantissimi altri modi per farlo. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Ci vediamo al prossimo video. Presto, ciao!